Dati alla mano, avendo usato questa tecnica sia per i miei video che anche per i miei clienti, ho notato veramente dei risultati eccezionali. Ciao da Marco e benvenuto in questa nuova puntata di YouTube Journey. Oggi continuiamo il nostro viaggio verso il successo del tuo canale YouTube parlando di una tematica davvero molto molto importante, ovvero le miniature. Come pensai, le miniature hanno un ruolo fondamentale per convincere le persone a cliccarci sopra e di conseguenza a guardare i nostri video, a lasciarci like, commentare e soprattutto iscriversi al nostro canale. Quindi a tale scopo oggi ti darò due consigli pratici per migliorare le performance delle tue miniature e in particolare un piccolo trucco segreto per crearle in modo super veloce ma allo stesso tempo molto efficace. E poi ti mostrerò due strumenti molto utili per migliorare appunto le miniature e di conseguenza aumentare le visualizzazioni dei tuoi video. Partiamo col primo consiglio che, se volessimo racchiuderlo in due parole, è non strafare. Molto spesso mi capita di vedere miniature con tantissimo testo, immagini poco chiare, forse anche troppo dettagliate e che comunque non esprimono bene l'argomento del video, quindi che non mettono curiosità. Al contrario, in base alle mie esperienze, ai dati che ho raccolto sia dai miei video che quelli fatti per i miei clienti, gli elementi che ci permettono di creare miniature efficace sono, prima di tutto, di usare poco testo. Quindi al massimo inserisci 4-5 parole. Se riesci a usarne anche di meno, tanto meglio. Per quanto riguarda le immagini invece, assicurati di usarne di semplici. Ad esempio io uso molto spesso con efficacia loghi, icone, piccole immagini semplici. O se vuoi usare delle vere e proprie fotografie, assicurati che non siano troppo dettagliate. Anche perché, come ben saprai, molte persone guardano i video da smartphone. Quindi a differenza del pc e delle smart tv, le miniature sono molto più piccole. Quindi se hanno troppi i dettagli, non salteranno all'occhio e quindi non saranno utili per invitare le persone a cliccarci sopra. Il secondo consiglio ha a che fare con l'uso dei colori. Assicurati di usare colori che, per così dire, si sposano bene. Ovvero che comunque stanno bene insieme e al contrario invece non cozzano e che quindi non danno fastidio dal punto di vista visivo, non danno fastidio all'occhio. Ad esempio io, per quanto riguarda le miniature, l'avrei forse anche già notato, utilizzo dei rettangolini neri e rossi con all'interno un testo di colore bianco. Creando quindi un contrasto molto forte che fa arrivare subito all'occhio, fa ben capire subito la persona, alle persone che lo guardano, di cosa parla il video. Quindi quali sono le terminologie, le parole che ho usato per darti un primo assaggio e quindi portarle a cliccarci sopra più facilmente. Al contrario non utilizzare colori che si assomigliano troppo, tipo magari il nero col grigio, il blu col azzurro o colori che comunque non vanno molto bene. Il blu col rosso per esempio all'occhio stanca molto, dà molto fastidio, come il blu col verde, cioè non stanno sempre benissimo. Poi, come ti dicevo all'inizio, c'è un piccolo trucco segreto che ti permetterà di creare miniature in modo super veloce e allo stesso tempo molto efficace. Ma prima di dirtelo non dimenticare di lasciare un bel like ed iscriverti al canale attivando la campanellina su tutte le notifiche per non perdere i miei prossimi video e consigli. Ma soprattutto ti invito anche ad entrare al mio gruppo Telegram riservato, link qui sotto in descrizione e nelle schede, in cui troverai risorse utili esclusive e in cui potrai farmi domande e confrontarti con altri utenti. Il trucco in questione funziona in questo modo. Prima di tutto vai su YouTube e inserisci sul motore di ricerca una parola o una frase che rispecchia l'argomento del tuo video o quello che vuoi fare, ma in inglese. In questo modo YouTube ti restituirà come risultati appunto video in inglese con miniature appunto in questa lingua. A questo punto identifica i video che hanno generato, attenzione, almeno 100.000 visualizzazioni negli ultimi 12 mesi. Se ne hanno fatti di più nello stesso periodo, tanto meglio. Se ne hanno fatte 100.000 in meno tempo, tanto meglio ancora. A questo punto prendiamo l'immagine e la inseriamo dentro un software come ad esempio Canva o qualsiasi altro programma a usi per le grafiche e gli mettiamo in parallelo un foglio bianco in cui andremo a creare effettivamente la nostra miniatura senza copiare quella in inglese a 100%, ma solo prendendo quegli elementi che probabilmente avranno influito sul successo di questo video. Infatti il motivo per cui ti ho fatto scegliere un video che ha fatto 100.000 views in circa un anno è perché, dati alla mano, avendo usato questa tecnica sia per i miei video che anche per i miei clienti, ho notato veramente dei risultati eccezionali. Un altro aspetto fondamentale per creare miniature in modo efficace, che in realtà è anche una regola che si applica nel web marketing in generale, è fare degli A-B test, ovvero testare più miniature per capire quale sia la più efficace. Ovviamente questa attività non si può svolgere manualmente, sarebbe praticamente impossibile, e quindi è qui che ci vengono incontro e in aiuto alcuni strumenti molto utili. Ad esempio abbiamo TubeBuddy, che, ne ho parlato molto spesso di questo strumento, ha di recente implementato una funzionalità che ci permette proprio, ancora prima di caricare un video, di confrontare tramite un'intelligenza artificiale predittiva quale miniatura potrebbe essere più efficace e quindi ci consiglia quale utilizzare. Un altro strumento di cui ho già parlato in un altro video, ti lascio qui sotto il link per guardartelo, è Creator ML, che addirittura non solo ci permette di, sempre tramite intelligenza artificiale predittiva, di capire quale miniatura sia più efficace, ma anche addirittura i titoli più efficaci, che potrebbero portarci migliori risultati. Poi un ulteriore strumento super efficace, utile a telescopo, gratuito, offerto da YouTube, è testa e confronta. Una nuova funzionalità, ancora in fase di beta testing, quindi se non la vedi ancora nel tuo YouTube studio, tranquillo che YouTube mano a mano lo sta vedendo disponibile per tutti, ci permette di testare fino al massimo di tre miniature e lui in automatico le farà girare, le farà vedere alle persone e, in base ai dati che andrà a raccogliere, in modo particolare quella che genererà il miglior watch time, la selezionerà in automatico per lasciarla in modo definitivo per il tuo video. Nel caso, fammi sapere qui sotto nei commenti quali di questi tool stai utilizzando e se ti stai trovando bene oppure no. Bene, siamo arrivati al punto del video in cui il protagonista sei proprio tu. Infatti, come in ogni puntata, in cui tramite sondaggi, commenti, eccetera, chiedo la vostra opinione per portare avanti il nostro progetto del canale YouTube reale che stiamo creando insieme, come puoi vedere qui nelle immagini, ho creato tre miniature per il video che avete votato alla volta scorsa, che, come ben sapete, il canale parla di foto e video da smartphone e in particolare il video parlerà delle migliori applicazioni appunto foto-video per smartphone. Quindi, scrivi qui sotto nei commenti uno per scegliere la prima, due per scegliere la seconda e ovviamente tre per scegliere la terza e quella più votata sarà ufficialmente la miniatura che useremo per questo video. Quindi, mi raccomando, scegli bene in base ai consigli che ti ho dato in questa puntata e quella che secondo te sembra la migliore. Quindi, detto ciò, grazie ancora dell'attenzione, ti ricordo di lasciarmi un bel like, di iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi video, di entrare nel gruppo Telegram riservato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao da Marco!